Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da yearforex.com e in questo video voglio mostrare realmente che cosa significa trovare delle rotture di mercato perché spesso ci si confonde con massimi e minimi e quando vengono rotti dei massimi e dei minimi allora si pensa che il mercato debba continuare quando invece spesso, quando vengono rotti i massimi e minimi di mercato o comunque i massimi e minimi di quel momento sono spesso poi false rotture quelle che creano la rottura diciamo iniziale quindi spesso tradati al contrario voglio dire e quindi come leggere queste rotture diciamo che i mercati in questi ultimi giorni ci hanno fornito degli ottimi esempi pratici proprio per spiegarvi che cosa significa guardare quando il mercato rompe un certo tipo di area soprattutto quando siamo di fronte a dei pavimenti ho fatto un video qualche mesetto fa mi sembra qui su youtube quindi lo potete andare a vedere quello dei pavimenti di price action quindi andatelo a rivedere pavimenti e soffitti quello di soffitti devo farlo ma è praticamente una cosa simile comunque quando si rompe un pavimento quello che ci permette di far sì che tendenzialmente abbiamo un'idea di quello che può succedere nei giorni successivi è una cosa sola che è la chiusura chiara sotto un pavimento quindi prendo l'oro prenderò anche qualcos'altro per esempio l'argento ma anche l'euro prendiamo questi tre mercati per fare questo tipo di esempi abbiamo avuto un oro che è andato ed è ritornato su un'area importante dopodiché su questa zona importante vedete che ha creato un pavimento che è questo qui il pavimento è proprio questo qua che vedete qua cioè lui ha continuato ad andare su quest'area e non è mai riuscito a chiudere al di sotto di essa mai fin tanto che pam eccolo qua qualche giorno fa c'è stato il movimento di ribasso forte con una chiusura chiara e grande volatilità al di sotto di questa zona quindi c'era già da aspettarselo che questo minimo fosse rotto perché è molto probabile che il mercato quando fa una cosa del genere al di sotto di un pavimento crei continuità in realtà vedete che adesso qui può crearsi magari quel minimo un po' più basso ma è un recupero e poi magari va quindi non è la rottura del minimo o del massimo spesso che crea un movimento ma è la rottura di questi pavimenti ok è nei pavimenti o nei soffitti che si crea la vera rottura e magari l'idea che il mercato possa continuare prendiamo anche l'argento che è un po' il fratello minore chiamiamolo così dell'oro quindi ha dei movimenti molto simili guardate qui anche qui pavimento molto chiaro pavimento e boom questa è la vera rottura che poi romperà anche il minimo in realtà ma era già qui da aspettarsi che lui continuasse la fase quindi le vere rotture non sono rotture sui minimi e sui massimi ma sono rotture sui pavimenti ultimo esempio quello dell'euro che proprio nell'ultimo periodo aveva creato un pavimento molto chiaro in zona di 7,60 e 7,50 addirittura anche con un segnale pin qui rotto con in realtà questa conferma completamente la rottura e adesso quindi quello che ci si può aspettare è una continuazione magari su altri livelli di prezzo quindi quello che voglio dirvi è cercate sempre di approfondire cercate sempre di capire quello che avviene e non pensate che la rottura di un massimo o di un minimo debba avvenire per forza un movimento perché spesso invece lì avvengono delle false rotture come per esempio è successo qui pin con falsi massimi e chiaro movimento poi ribassista dei prezzi quindi in linea generale guardiamo più che altro se avvengono dei pavimenti o dei soffitti e da lì se avvengono e c'è una rottura in chiusura con ampia volatilità di queste aree è molto probabile che il mercato nei giorni successivi possa continuare quel movimento quindi la vera rottura è sulla chiusura non sul massimo o il minimo questo era il video di oggi spero vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un bel like, un mi piace sotto il video commentate, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi così vi arrivano tutti gli aggiornamenti e noi ci vediamo al prossimo video come sempre, anzi vi dico una cosa prima di finire vi lascio con la presentazione del nuovo corso che faremo dedicato appunto ai livelli di volatilità che vi faccio vedere qui eccolo qua, il 23 e il 24 ottobre faremo questo corso io e Antonio, i Airforex il 23 dalle 15 alle 17 e il 24 dalle 9 alle 12 c'è il link in descrizione di questo video per iscrivervi a vedere tutto il programma del corso io vi saluto e vi auguro un buon Trading Simple, ciao a tutti